segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te cani barbara tedaldi non abbiamo parlato del diciamo delle cose che tu abbiamo tempo ma non troppo ne abbiamo pochissimi abbiamo tempo ma non troppo nel senso che il presidente della repubblica vorrebbe fare prima possibile perché il paese ha diverse cose urgenti da fare mi sembra no bollette la guerra insomma è inutile che le raccontiamo le persone lo sanno link proprio perché l'incarico sa chi darlo non si vede perché perdere tempo dal suo punto di vista cioè se ovviamente va seguita la costituzione quindi residenti delle camere consultazioni anche sabato e domenica non è che non ci saranno non ci saranno vacanze il paese appunto non se lo può permettere se come è stato fino adesso è come proprio in maniera in maniera rettina come è stato fino adesso se non abbiamo fatto vacanze e il se il fratelli d'italia e forza italia lega come immaginiamo indicheranno giorgia meloni come premier mattarella darà l'incarico a giorgia meloni non c'erano dubbi non ci sono mai stati alcune volte sono uscite queste state indiscrezioni hanno provato sempre delle reazioni che la costituzione la costituzione certo popolare se non gli desse l'incarico sarebbe un colpe non così ci fermiamo linea andrea pancani pubblicità non pubblicità linea bancai a domani